Match da dentro fuori per la Bagnolese, punti importanti invece per la classifica della San Maurese che viaggia sull'ottica a traguardo salvezza con estrema regolarità. Dopo l'esplorare di Prato la formazione di Protti è pronta a ripetersi a domicilio. Arbita la gara Giampietro di Pescara, coadiuvato da Moretti, San Benedetto del Tronto e Piccinini di Ancona, Terna, Abruzzese e Marchigiana per una gara che vede subito la Bagnolese gettarsi in avanti. L'apertura di Leonardo per Bufagno è un invito a nozze ma è numero 4 scarica in bocca ad Adorni. Lo stesso portiere ex Rivini deve ripetersi su un altro fraseggio ospite. Lo scambio tra Leonardo e Calabretti porta al tiro quest'ultimo, Adorni è costretto al tuffo. La San Maurizio viene fuori con quest'azione partita da Bonandi, supportato da Massini, cui traversone viene pennellato sulla testa di Giannini che mette di pochissimo a lato. Questa volta lo stesso Bonandi a pareggiare i tentativi verso lo specchio della porta con una conclusione che si accomoda sui cartelloni pubblicitari. Dall'angolo la Bagnolese si rende pericolosa con questo colpo di testa di Cortesi che sfiora la marcatura, mentre dall'altra parte Bonandi calcia in bocca all'attento con Radi. Ancora Cortesi protagonista, questa volta il numero 7 dopo aver sfiorato la marcatura si procura i penalti venendo atterrato in area di rigore da Bolognesi. Dal descritto si presenta Leonardo con Adorni che con la mano di richiamo alza la sfera sopra la traversa. Davvero bravo il portiere da San Maurizio che riceve giustamente i complimenti dai propri compagni di squadra. Nella risplessa la squadra di Protti parte forte sfiorando in vantaggio con Gurini. Da intuizione di Migani nasce l'assist per Merlonghi, l'ex cattolica in velocità calcia in bocca a Corradi uscito in maniera tempestiva. Trame di bel gioco con combinazione Bonandi-Merlonghi, tentativo finale di Giannini. Corradi è pronto ancora una volta a dire di no, ma il numero 11 si riscatta quando Massini e Gurini scambiano sulla destra attraversano al centro di quest'ultimo con spaccati in area di rigore a cura di Giannini che invita al silenzio qualcuno degli ospiti che lo talonava non solo con i piedi ma anche a parole. 1-0 e via al Festival della Felicità. Il numero 11 potrebbe siglare una persona di doppietta su questo assist Merlonghi ma la sfera è fuori dal bersaglio. Doppietta che non riesce proprio al numero 11 neppure quando Migani ruba palla all'avversario lassando campo libero a compagno ma con Radia superlativo nell'intervento. In contropiede il neo entrato per Federici calcia maldestramente il pallone della sicurezza. Le emozioni terminano qui con la San Maurese che è legittima il successo specie per quanto prodotto nell'arco della ripresa. Alla Bagnolese il ramarico di aver subito una grossa chance dagli 11 metri nel corso della prima frazione di gioco.